Da vari antopoli a gasopoli, mi sembra di poter dire, nel senso che siamo passati, copyright caporali, siamo passati con 15 anni di stacco, di fatto con in mezzo l'amministrazione di centro-sinistra, qualche annetto loro, di fatto il centro-destra, il governo di questa città si conferma sempre, diciamo, borderline, per usare un eufemismo, rispetto al rispetto di quelle che sono, in qualche modo, le normative, le norme. Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, dovrebbe fare un passo indietro e dimettersi, così la minoranza in consiglio comunale, commenta appunto gli ultimi fatti della vicenda giudiziaria che ha coinvolto Coingas e Comune di Arezzo. Stamattina chiediamo e annunciamo pubblicamente la richiesta di dimissioni, crediamo che il sindaco non sia nelle condizioni di poter continuare a guidare questa amministrazione, sicuramente anche se non sarà coinvolto, però è un sindaco un po' distratto, diciamo così, e la posizione che ricopri, quindi essere a capo di un comune, non permette distrazione. Sia il sindaco di Arezzo che l'assessore Mirelli sono chiamati ad intervenire nella commissione garanzia e controllo, convocata dal suo presidente Francesco Romizzi per il 18 di luglio. Il giorno successivo, il 19, c'è invece il consiglio comunale. Tra le cose all'ordine del giorno c'è anche la surroga del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Chizoniti, ma non è detto che sia legata alla vicenda Coingas. Abbiamo deciso di convocarla proprio perché non c'è stata, se non una conferenza stampa in questa sala, nessun confronto politico e nessun chiarimento politico da parte del sindaco rispetto all'inchiesta che ormai da dieci giorni sta occupando le prime pagine di tutti i giornali aretini. Ho invitato il sindaco e quindi spero che sia la prima occasione utile in cui il sindaco chiarisca la sua posizione, ma soprattutto chiarisca la posizione della maggioranza, di tutte le forze della maggioranza rispetto a questa questione politico-giudiziaria. Noi controlliamo da vicino, dal punto di vista politico e nell'interesse dei cittadini quanto sta avvenendo, perché si sta parlando, la magistratura farà i suoi approfondimenti, ma si sta parlando di mezzo milione di euro, più o meno, qualche euro in meno, di soldi pubblici. L'atto estremo sarebbe una mozione di sfiducia? Sì, questo è chiaramente l'atto estremo, chiaramente i numeri della minoranza, come vi immaginate, non sarebbero sufficienti perché è una mozione di sfiducia, ma io faccio anche appello alle altre forze politiche che sono in consiglio comunale, chiedendo di se loro sono contenti, se loro vogliono continuare ad andare avanti, a sostenere una maggioranza guidata da un sindaco che ha avuto un comportamento politicamente assolutamente inadeguato, che è quello appunto di andare a fare pressioni rispetto a un organo di vigilanza per cambiare un parere su delle consulenze che ad oggi pagano assolutamente sproporzionate.